Stiamo cercando di entrare in stazione, però non è detto che ci facciano entrare perché c'è la polizia. Questo è il convoglio, penso. Come potete vedere, questa è una parte del convoglio che ha causato l'esplosione. Purtroppo si vede molto male, però questa è la parte del convoglio rimasta in piedi sui binari, che è stata trasferita qui mentre bonificano le altre aree. Come potete vedere, qua c'è l'ultima stazione, trecate. Una di queste cisterne, che come possiamo vedere ha il segno dell'infiammabile, è quella che ha preso fuoco. In lontananza possiamo vedere il convoglio e le cisterne rimaste. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per raffreddare probabilmente i binari, da quello che si può capire. La stazione è veramente disastrata. Gli uomini che abbiamo prima visto al lavoro stavano mettendo dei sigilli a questi cocchettoni. Come potete vedere, probabilmente i sigilli disposti dalla magistratura. È inquietante pensare che tutto questo sarebbe tutto il snodo. Una sola di queste cisterne ha fatto tutti quei danni. A presto. Bene査. Wu, a... Ein peggio. Mediacere el Engagement.